Allò, io sono Jessica, lui è Luca e questa è Irene. L'ora in avanti vi informeremo su quel che accade al Pianoro Factory. Beh, vi informeremo su concerti, eventi e su tutto il resto. Sabato 23 abbiamo la Vacanza di Mr. X, gruppo che fa musica da ballo per giovani precari, che è più o meno il nostro genere, e fanno principalmente reggae, ska, rock. E non è male. Comunque io li conosco già e potete fidarvi, il suono è ricercato, pulito, la sonorità ottima e il risultato è garantito. Dopo di loro suoneranno i Dappi & Muffet, gruppo principalmente pianorese, nato dalla sala prove di Pianoro, e dall'ultima salita sul palco promettono bene un misto tra musica e show. Se volete ascoltarli potete trovarli sullo Space, la Vacanza di Mr. X e Dappi & Muffet. Vi aspettiamo a sabato prossimo. Ciao! Ciao, a sabato!